Il medico di medicina generale, almeno nel nostro paese, non ha accesso alla prescrizione dei farmaci biosimilari, perché il farmaco biosimilare è un farmaco che comunque deve rispondere ed è in categoria di farmaco ospedaliero, il file F, e ovviamente deve essere prescritto dallo specialista. Diverso il concetto di farmacogenetico, quello lascio rispondere al farmacologo. Praticamente è molto semplice, esiste una lista di trasparenza per cui fondamentalmente il medico dovrebbe prescrivere il principio attivo o quindi poi a livello di farmacia dovrebbero dispensare il generico, a meno che il medico non giustifichi l'utilizzazione dell'originatore per particolari condizioni ed è compito del medico di giustificare una mancata utilizzazione dell'originatore, oppure fondamentalmente l'altra possibilità che il farmacista dà che il paziente preferisca l'originatore e paghi la differenza di tasca sua.